Stamani mattina C'è un piccolo filmatino che vorrei farvi vedere per introdurre l'argomento C'è un piccolo filmato C'è un piccolo filmato C'è un piccolo filmato C'è un piccolo filmato La sorella ha detto bene, ripeti? L'importanza dell'umiltà C'è un piccolo filmato E' un po' come l'amore, tutti ne parlano ma realmente nessuno sa che cosa sia C'è un piccolo filmato In Matteo 11,29 E' scritto che prendete su di voi il mio gioco E' un piccolo filmato C'è 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 un piccolo filmato Lui ha questo cuore di umiltà e questo cuore di umiltà di Mosè lo vediamo anche nel corso di tutto il suo ministerio. C'è un altro momento dove Dio dice io voglio eliminare il popolo, Mosè dice no, piuttosto cancella il mio nome dal libro della vita, ma preserva questo popolo. Era un cuore umilo e questa mattina vogliamo incoraggiarci gli uni e gli altri a vivere con questo sentimento di umiltà. Gedeone si umiliò davanti all'angelo di Dio, sappiamo che Gedeone era nell'Aia e lui diceva io non sono nessuno, ha chiesto delle prove per vedere che la mano di Dio era sulla sua vita, conosciamo la storia, è vero? Ma in Giudice al capitolo 6 lui si umiliò davanti all'angelo di Dio e rispose ah signore mio come salverò Israele? Ecco la mia famiglia è la più povera di Manasse ed io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Ma questo cuore di umiltà ha fatto di lui un grande condottiero. Allora non ci vergogniamo di essere umili, cerchiamo l'umiltà perché è importante per la nostra vita, fa parte della nostra esperienza. Davide, Davide, anche lui disse chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volentierosamente così tanto? Perché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Questo vale anche per noi, no? Noi diamo a Dio solo quello che lui ha già dato prima a noi. E poi conosciamo la storia nel Nuovo Testamento di un uomo, un centurione, un centurione che cosa disse? Signore io non sono degno che tu venga a casa mia, no? Ma Dio è una parola e il mio figlio sarà salvo. C'era una donna sirofenicia, in Matteo al capitolo 15, Gesù disse non è per te adesso il tempo della guarigione, ma lei disse signore io lo dici bene eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Era un sentimento di umiltà. E altre persone, Simon Pietro, vero, che ha detto a Gesù, signore allontanati da me perché sono un uomo peccatore. E l'Apostolo Paolo parla in Matteo al capitolo 20, al versetto 19, e parla del suo ministerio e dice Servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venute dalle insidie e dai giudei. Sentiamo questa parola, sentiamola bene. Servendo il Signore con ogni umiltà e anche con lacrime. È vero per le prove, ma non ha mai mollato. Anzi, è stato fedele fino alla fine. È voluto andare con il Signore. Però quindi abbiamo veramente in tutta la scrittura numerosi esempi. Ma chi è il più grande esempio di tutti? Non ho sentito bene. Chi è il più grande esempio di tutti? No, non ho sentito. Chi è il più grande? Gesù! Oh, va bene. Gesù è il più grande. Siamo d'accordo su questo? Allora, Filippesi 2, 5 e 8. Prendete questo passo. Filippesi 2, 5 e 8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso. Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esternamente come un uomo, umiliò se stesso. Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e dalla morte della croce. Gesù è il nostro più grande esempio di umiltà. Amen? Ha lasciato la gloria per diventare uno come noi. anzi, per caricarsi di tutti i peccati. E quindi, se Cristo è il nostro esempio ed Egli si è umiliato per scendere fino a noi, allora, e se noi siamo il Tempio dello Spirito di Dio, quanto più noi siamo chiamati a far sì che l'umiltà diventi una caratteristica della nostra vita cristiana. Amen? Amen? incoraggia una persona a dirgli fai che l'umiltà diventi la tua caratteristica. A dirgli una persona vicina a te, fai che l'umiltà diventi una tua caratteristica. Perché sapete, siamo tutti siamo tutti molto orgogliosi. Sì o no? E possiamo diventare essere orgogliosi di essere umili poi, tra l'altro. È chiaro? E quindi, l'orgoglio sta dietro di noi. L'umiltà è una cosa che non ci piace. La peggiazza degli altri, ma poi non è scherzo. Eh, noi vogliamo avere sempre ragione. È chiaro? È difficile piegarsi. È difficile. Ricordatevi questo filmattino perché è troppo carino. E quindi, vediamo che la sua vita è proprio, la vita di Gesù è permeata da questo insegnamento. Egli ha mostrato di essere umile fin dalla sua nascita. Sì o no? Dove è nato Gesù? Va bene? È nato in una mangiatura, in una stalla. Più umile di così, il re della gloria non si poteva mostrare. E quindi si è mostrato in una natura che ha permesso all'uomo peccatore di poter guardare poi verso il cielo. E poi, pure, essendo re dei re, signore del Signore, non ha mai cercato quest'onore. Anche quando gli è stata data la possibilità. Lui non ha mai cercato. Lui è rimasto come un servo. E questo lo vediamo proprio nel Vangelo di Giovanni, Giovanni capitolo 5, Giovanni capitolo 6. Ma Lui è venuto vicino a noi, nella umiltà, nella nostra debolezza, per visitare coloro che erano disprezzati dalla società ed era disposto a subire ogni forma di insulto e di disprezzo. E così, ecco che Lui ha preferito che cosa? Una corona di? A posto di una corona di? D'oro e di gloria. Amen. Umile fino alla fine. Che meraviglioso esempio che abbiamo. E' vero? E Matteo 23,12. Gesù ci insegna, perché ci insegna Matteo 23,12, che chi si abbassa sarà? Ma chi si innalza? Sarà abbassato. Allora abbiamo una lezione di umiltà anche nella nostra condotta. Questa è una promessa per noi. E infatti vediamo che Gesù si è così abbassato che Dio lo ha così innalzato. E infatti questa è la parola. Dio lo ha sovranamente innalzato e ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Amen. Gesù si è così abbassato che il Padre lo ha così innalzato. Amen. Alleluia. Allora non c'è bisogno di pregare come pregava mia mamma. Sapete, mia mamma tutte le domeniche mattine si alzava perché c'era il culto di adorazione e normalmente chi pregava non erano sempre le 3 o 4 sorelle più anziane. E mia mamma era di quella. E lei si alzava, lo dava al Signore e diceva Signore, abbi pietà di nuovo perché siamo vermi della terra. Ma lo diceva proprio con tutto il sentimento di una donna tosca. Siamo vermi della terra. E così, voglio dire, in qualche maniera lei voleva esprimere che non siamo niente. Sì, siamo dei vermi un po' migliorati. Ma diciamo che il Signore ci ha fatto trasformare in farfalle. Amen. E così possiamo volare verso il cielo. Ma gloria a Dio. Amen. Abbiamo questa parola del Signore che chi si abbassa sarà innalzato. Sorelle e fratelli, è molto importante questo. Sapete, nella nostra comunità cristiana nel nostro vivere insieme è facile è facile prendersela è facile sbagliare è facile dire una parola di troppo una parola di meno. E poi siccome non sappiamo più parlare di altre cose va bene? Perché dobbiamo essere santi l'unica cosa che sappiamo fare è parlare dei fratelli. Ma chissà come ne parliamo. Va bene? È chiaro? Perché prima magari che ti convertivi parlavi che ne so diciamo per degli argomenti va? Ma alla fine se nella comunità ti conosci stai qui frequenti da 5 anni da 10 anni da 20 anni tra poco sapete neanche di che cosa parlare. È chiaro? Allora ecco che parli dei fratelli. Ma la cosa importante è che noi sappiamo veramente mettere un guardiano nella nostra bocca e impariamo a mettere un guardiano anche nella nostra chat adesso. Va bene? Perché con le chat siamo fregati tante volte. Ci scappano delle cose. Poi adesso l'ultima cosa che ho visto è che uno mi ha scritto un messaggio ma un secondo dopo l'ha cancellato perché si era pentito di quello che aveva scritto. Comunque a parte gli scherzi è molto importante che noi viviamo nell'umiltà. Amen? Che noi pensiamo cosa può far gioire il nostro fratello la nostra sorella che eliminiamo l'orgoglio e che siamo pronti a vivere nell'umiltà. Ricordati sempre questo chi si abbassa sarà innalzato. Che il nostro sentimento deve essere come quello di Cristo Gesù che a lui si è umiliato e poi Dio lo ha sovranamente innalzato. Amen? Gesù lo ha sovranamente è stato sovranamente innalzato perciò ecco questo volevo dire perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Facciamo che questo perciò diventi il nostro. Amen? Siccome perciò siccome si è abbassato Dio lo ha innalzato. Facciamo che questo diventi nostro perché anche noi abbiamo un destino lo sapete che abbiamo un destino Apocalisse 2 17 Apocalisse 2 17 il nostro destino è che il Signore ci darà un nome nuovo a me Michele Dio ti darà un nome nuovo che nessuno conosce a me anche a Tonino lo darà via va bene se non colui che lo riceve a me sarà un nome speciale perché un nome è fatto per essere conosciuti sì o no ma Dio ci darà un nome a ciascuno di noi che nessuno conosce solo chi lo riceve e quindi sarà un nome che ci porterà gioia che ci darà senso di giustizia di appagamento di realizzazione di avere risolto finalmente tutte le cose che ci hanno angosciato anche nella nostra vita perché perché abbiamo vissuto con umiltà allora primo Pietro 5 versetti 5 e 6 leggiamo questi versetti primo Pietro 5 5 6 vedete il cristiano che decide di vincere è un cristiano che decide di vivere nell'umiltà un cristiano che desidera arrivare che desidera sgomitare che desidera arrivare prendere un posto non arriverà da nessuna parte perché chi si inazza sarà abbassato se tu vuoi vivere la vita cristiana devi imparare ad aspettare dell'umiltà che Dio ti lasci lo spazio perché con le tue forze prima o poi farai la fine del rinoceronte allora impara ad aspettare la vicenda impara a rispettare anche le autorità impara a vivere nell'umiltà ti costerà eh fratello Ken ci diceva l'altra settimana le groppo non lo stavano ma e questo è normale va bene perché quando tu devi fare delle cose che non senti o che non vuoi fare subito c'è la reazione ma nell'umiltà noi vogliamo vivere primo Pietro 5 5 6 così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di no più forte tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi ma fa grazia fa grazia agli umili umili umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al suo tempo amè e quindi anche quando noi preghiamo è necessario conservare un'attitudine di sottomissione verso colui a colui che noi innalziamo la nostra preghiera perché la nostra preghiera deve essere gradita a Dio amè quindi dobbiamo abbassarci perché Dio ascolta gli umili e permette di godere della sua presenza Isaia 57 15 leggiamo questo passo Isaia 57 15 Isaia 57 15 infatti infatti così parla colui che è l'alto l'eccelso che abita l'eternità e che si chiama il santo io dimoro nel luogo eccelso e santo ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili per ravvivare il cuore degli oppressi amè gli umili godono della benedizione di Dio realizzano i momenti difficili la presenza al suo soccorso e nel giorno dell'avversità la scrittura ci dice che il Signore li rialza amè li rialza e quindi godono del suo intervento ringraziamo il Signore che Lui possa veramente farci vivere con questa caratteristica della nostra vita il nostro carattere e possiamo così arrivare man mano verso il premio che il Signore ha promesso per noi e dobbiamo maturare l'attitudine dell'umiltà perché l'orgoglio porta rovina l'orgoglio porta distruzione perché come abbiamo letto Dio resiste ai superbi ma fa grazia agli umili amè Dio resiste ai superbi ma fa grazia agli umili quanto vogliono godere della grazia di Dio amè allora la via è la via della umiltà amè per godere della grazia di Dio Luca capitolo 18 versetti dal 9 al 14 puoi metterlo per favore Luca capitolo 18 dal versetto 9 al 14 il Signore parlò anche dicendo per esempio che chi sarebbe fatto piccolo come un bambino avrebbe ereditato il Regno dei Cieli sarà il più grande il Regno dei Cieli Luca capitolo 18 dal 9 al 14 disse ancora questa parabola per certudi che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri due uomini salirono al tempio per pregare uno era fariseo e l'altro pubblicano il fariseo stando in piedi pregava così dentro di sé oh Dio ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini ladri ingiusti adulteri ed eppure come questo pubblicano io digiuno due volte alla settimana pago la decima su tutto quello che possiede ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo ma si batteva il petto dicendo oh Dio abbi pietà di me peccatore cosa disse Gesù io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato e chi era il pubblicano il pubblicano era uno che riscuoteva le tasse per i romani e quindi aveva la possibilità di rubare e mettersi i soldi in tasca e forse se l'ha accorto questo qua che aveva rubato abbastanza e allora va da Dio e ti dice signore abbi pietà di me è vero e il signore detto questo insegnamento ora questo ringraziamento di questo foreseo non era poi così sbagliato sì o no era vero era vero tutto quello che lui diceva era vero è chiaro e quindi lui ce la metteva tutta proprio tutta per essere giustificato davanti a Dio ma qual era il problema perché Gesù disse così perché perché il pubblicano non innalzava se stesso è vero ma invece il foreseo innalzava la sua giustizia diceva signore guarda guarda come io sono santo guarda come io sono giusto eh allora diceva signore io me lo merito eh io me lo merito ma il pubblicano disse signore io non lo merito niente è vero ha innalzato la giustizia di Dio e quindi quindi in realtà poteva non essere così sbagliato il ringraziamento del foreseo se l'avesse fatto con un senso di umiltà amén se invece di dire io 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 signore avessi detto grazie signore perché mi dai la possibilità di fare queste cose amén perché quello che abbiamo lo riceviamo da Dio e noi lo restituiamo a Lui e quindi ma cerchiamo di vivere in questa attitudine c'è un passo in proverbi capitolo 16 al versetto 19 proverbi capitolo 16 al versetto 19 che ci dice è meglio essere umili con i poveri che spartire la freda con i superbi bello, vero? leggiamo insieme è meglio essere umili con i poveri che spartire la freda con i superbi amén e poi la parola del Signore ci dice anche beati i poveri in spirito cioè beati quelli che sono umili perché di loro è il regno dei cieli amén allora questa mattina la lezione è se vogliamo andare nel regno vivere nel regno dobbiamo essere delle persone umili ah, meno male la lezione sta facendo bene gloria a Dio adesso vi racconto una bella storiella e concludo con questo va bene una volta un monaco di un convento medievale era stato mandato a sostituire dal suo superiore a sostituire un priore in un altro convento che era morto nella regione lì vicina e quindi lui ubbidì e andò a questa qui arrivato al convento bussa alla porta e viene il frate portinaio ad aprire il quale non chiedendogli niente pensa che sia uno dei soliti frati che vanno in giro a chiedere l'emosina va bene la questa e quindi lo scambia per un frate mendicante non aveva ricevuto nessun tipo di istruzione non sapeva niente di niente e quindi lo vede e gli dice vai al refrettorio e lo manda subito a lavorare al refrettorio ad aiutare il cuoco e così il frate che era stato mandato per fare il priore è stato zitto non ha rivendicato nessuno dei suoi poteri nessuno dei suoi ruoli non si è messo a contestare non ha fatto niente di niente è andato in cucina e si è messo a lavorare dopo qualche mese il superiore lo richiamò e gli disse come va nel convento dammi informazioni sull'andamento delle cose e lui ritornò in sede ma mi dispiace ma sono un po' amareggiato ma non riesco a dirti niente di quello che si fa nel convento non ne so niente perché non sono in grado di darti delle spiegazioni e il superiore si arrabbiò ma come? ma perché non hai fatto nulla? no appena sono arrivato mi hanno messo in cucina e là io sono rimasto a quelle parole il suo superiore si ricordò che non aveva avvisato nessuno e quando lui lasciò il convento dette il convento in mano a questo frate perché questo frate aveva dimostrato che cosa? umiltà vi è piaciuta la storiella? allora prima di andare in India un po' di di riflessioni sul fatto che dobbiamo essere umili che la umiltà è quella che precede la gloria e che non dobbiamo sgomitare per avere posti o ruoli o situazioni e non dobbiamo prendercela se qualche volta qualche d'uno ci dice delle cose che non ci piacciono o se ci viene chiesto di fare delle cose che non sembra che sono nella nostra dimensione o nella nostra portata viviamo nell'umiltà colui che era il re si è abbassato si è umiliato fino a noi e Dio lo ha sovranamente innalzato amè il Signore ci benedica un'imiltà assin che un'imiltà che l'imiltà è qui